Buonasera, sono questi i giorni centrali della vita della comunità cristiana. Tra la Pasqua e la Pentecoste, tempo in cui vengono celebrati in tante parrocchie i sacramenti della prima confessione, della messa di prima comunione, della cresima, naturalmente oltre ai battesimi e ai matrimoni. Sacramenti che esprimono e fanno la Chiesa, comunità cristiana, nella sua espressione più autentica. Sacramenti che accompagnano la vita, la crescita del cristiano, verso la pienezza della fede, adulta. Essi manifestano l'intreccio che c'è tra le diverse generazioni come una consegna e un passaggio dal forte impatto emotivo. Sacramenti posti lungo itinerari sapienti, dovrebbe essere così, della fede. Sono giorni di festa, dalle dimensioni individuali, familiari e comunitarie. Tutti vengono in qualche modo toccati. Tutti possono partecipare alla festa con una preghiera, con un dono, incontrandosi come famiglie, come amici. Le campane accompagnano suonando a festa. C'è una liturgia più curata. La comunità cristiana si ritrova nella gioia. I sacramenti sono tappe di un percorso di fede. Dal battesimo alla Eucaristia. Dal rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo alla mensa del corpo e sangue di Cristo. Sono per una fede adulta. Cosa rimarrà di tutta questa azione sacramentale? È una domanda da farsi. Quali impegni matureranno? Come verranno toccati i vari momenti, i vari luoghi della vita? Come ne risentiranno lo studio, la professione, l'impegno sociale, la vita coniugale, l'impegno educativo, la vita comunitaria? Quale preghiera, quale solidarietà nei giorni felici e in quelli del dolore e della prova? I sacramenti sono espressione della fede e sono in funzione della vita. Buonasera. Domenica 1 maggio in Abaziano Nantola, Anna Maria Guagnano è stata consacrata all'Ordine delle Vergini. Ai nostri microfoni la stessa Anna Maria racconta le sue emozioni nel giorno della celebrazione. Anna Maria, che emozione hai provato l'1 maggio, il giorno della tua consacrazione a Cristo? Nell'immediato posso dirti di non aver compreso esattamente che cosa stava succedendo. Poi indubbiamente una grande gioia, una grande quiete soprattutto. Quello che maggiormente mi ha segnato è stata la testimonianza della Chiesa che pregava in quel momento. Quindi la testimonianza di tanti che hanno partecipato e che hanno pregato insieme a noi, insieme a me e che mi hanno testimoniato la loro stessa gioia nel vivere questo momento che ci è donato dalla Chiesa. Non certamente per merito mio, ma proprio perché questa forma di consacrazione, che è stata ripristinata dal Concilio, ma che è una forma antichissima, la prima forma di consacrazione della donna nella Chiesa, ci è stata riconsegnata dopo il Concilio e quindi ne possiamo tutti gioire, gustare, insomma, questo è in poche parole. La celebrazione dell'1 maggio qui in Abazia è stata l'ultima tappa di un percorso maturato nel tempo. Quando hai deciso di entrare nell'Ordo Virginum? Diciamo che risale al momento in cui ho conosciuto l'Ordo Virginum. Io ho conosciuto l'Ordo Virginum nel 2006 circa e nel momento in cui ho incontrato questa forma di vita nel mondo mi ci sono rispecchiata, sentivo già che mi apparteneva, che parlava di me questo stile di vita. Dopodiché tutto il cammino di formazione e di discernimento che ne è conseguito è stato utile a riconfermare ogni giorno che quella era la forma di vita che io sceglievo, ma non tanto io, alla quale mi sentivo fortemente chiamata e in cui desidero vivere. Questo è, insomma. Chiudiamo con una domanda, diciamo, pratica. Come cambia la tua vita di tutti i giorni, anche da un punto di vista materiale, pratico, quotidiano? Cambia apparentemente in nulla. Per me in tutto, apparentemente in nulla perché sono una persona normale, come te, come tutti. Ho un lavoro, ho delle relazioni familiari, ho degli amici, delle persone che mi sono accanto nella vita parrocchiale diocesana. Quindi conduco una vita normalissima, ho una casa da mantenere, delle bollette da pagare e questo è quanto. Cambia l'orientamento di fondo della vita. Io riconfermo in questo modo, in maniera totale e piena, il mio battesimo. Sono totalmente del Signore, anima e corpo, restando nel mondo. Quindi cambia l'orientamento di fondo, che è quello sostanziale, quello del cuore. Poi le cose pratiche vengono di conseguenza e ci sono, perché ci sono i servizi in parrocchia, ci può essere un'attività più precisa in diocesi, ma non sono principali, non sono quelle che mi identificano come consacrata dell'Ordo Virginum. Gesù è più forte della Camorra. Questo è il titolo del libro di Don Agnello Manganiello, per 16 anni, parroco di Scampia. Il sacerdote era a Modena lo scorso lunedì, 16 maggio. Lo abbiamo intervistato poco prima della presentazione del libro al Palazzo Europa. Don Agnello, Gesù è più forte della Camorra. Perché qualche volta non sembra che sia così? Perché quell'invito di Gesù a seguirlo sulle strade difficili, sulle strade anche delle beatitudini, a lottare anche per la giustizia. E non sempre trova rispondenza, ecco, perché in quel Gesù è più forte della Camorra c'è l'invito e c'è anche l'esperienza, non solo mia, ma anche di tanti giovani che hanno condiviso con me questi anni, questi 16 anni, giovani adulti, che hanno avuto anche il coraggio di riscrivere il Vangelo. Cioè, quel Gesù è più forte della Camorra è perché ci sono stati dei cristiani, ci sono stati dei giovani, degli adulti, che hanno avuto il coraggio di percorrere le strade delle beatitudini e di riscrivere il Vangelo. Ecco perché questo Gesù è più forte della Camorra. Nella misura in cui, ecco, uomini e donne accettano la proposta delle beatitudini, accettano di impegnarsi per il Maestro, ecco, Cristo continua a vincere nella storia degli uomini e continua a vincere contro le ingiustizie, contro il male, da qualunque parte esso venga. Lei ha già parlato dei suoi 16 anni da parroco di Scampia. Scampia è una realtà lontana, da Modena manca Modena, le infiltrazioni camorristiche, malavitose, stanno arrivando. Beh, intanto va ulteriormente sviluppata l'antimafia culturale, ideologica, quella che si costruisce sulla denuncia, sull'informazione, sulla sensibilizzazione, anche sulle manifestazioni, sui cortei, sulle iniziative, per formare, per invitare anche la gente a fare corpo, a mettersi insieme, a far sentire la propria voce, a denunciare. Certo, io mi auguro che i modenesi, su questo punto, siano molto più coraggiosi dei napoletani nel denunciare, perché diventa poi veramente difficile denunciare le malefatte, il racket, come già mi pare sia avvenuto, per quanto riguarda commercianti, che hanno paura di denunciare poi il pizzo, la richiesta di pizzo, di racket. Ecco, l'antimafia ideologica, culturale, tende a fare tutto questo. Noi al sud, invece, abbiamo bisogno anche dell'antica mora delle opere, perché c'è la fame, c'è la disoccupazione, c'è il precariato cronico e la camura la si combatte anche, anche rispondendo ai bisogni della gente, investendo per il lavoro, sostenendo economicamente, accompagnando culturalmente con le scuole migliori. E allora, ecco, antimafia ideologica, culturale e anticamura delle opere al sud possono produrre risultati notevolissimi. E qual è il ruolo delle parrocchie nella costruzione di questo, diciamo, questo scudo antimafia? Beh, sicuramente, principalmente, lavorando sulle giovani generazioni, lavorando molto sull'associazionismo, sull'aggregazione, aprendo gli spazi, aprendo le strutture della parrocchia per accogliere i giovani ragazzi, per fare proposte di volontariato, di servizio, di impegno, senza avere paura che i giovani possano rompere, possano creare problemi o qualsivoglia, in maniera tale che i giovani si possano sentire a casa loro e poter avere la possibilità di costruire, accompagnati dagli educatori, dai sacerdoti, in queste loro esperienze formative, di volontariato, sociali, culturali, possano costruire il loro futuro in maniera positiva, senza tentazioni di altro genere. ORATONI IN RETE ORATONI IN RETE è la sede del Centro Sportivo Italiano. Di cosa si tratta? Ce ne parla Don Federico Pigoni. Sì, Rottorinette è un coordinamento, un coordinamento che vede presente la pastorale giovanile, il CEIS, la cooperativa Don Bosco di Formigine, il Centro Sportivo Italiano, e diversi sacerdoti, per aiutare le diverse parrocchie della nostra diocesi a sviluppare dei progetti per gli oratori, più che progetti a sensibilizzare la realtà parrocchiale, le comunità cristiane, a mantenere viva la presenza educativa negli oratori, anche perché è un'opportunità di incontro di ragazzi sia della parrocchia che esterni unica che abbiamo. La pastorale giovanile passa fortemente attraverso gli oratori parrocchiali. Quindi da due anni a questa parte abbiamo pensato di creare un coordinamento semplice, leggero, che sviluppasse, uno, un percorso educativo, formativo, per incaricati di oratorio, e due, aiutasse dei parrocchi, i sacerdoti, gli operatori in parrocchia, i volontari, le famiglie, a essere attenti a questa realtà e anche a prendersela a cuore. Abbiamo raccolto anche le impressioni di Cristina Cavani, direttrice della Fondazione San Filippo Neri e dell'Arcivescovo Monsignor Lanfranchi. Sicuramente è stato un progetto molto importante che è scaturito appunto dal lavoro della Commissione Docesana degli Oratori, di cui la mia fondazione fa parte, con l'obiettivo di mettere in rete già i progetti esistenti, ma soprattutto riuscire a dare forza e contribuire a far crescere all'interno delle singole realtà parrocchiali, proprie esperienze oratoriali, per l'evangelizzazione e anche l'educazione dei nostri giovani. Fondamentare anche il ruolo degli educatori, che sono un po' la vera anima degli oratori. Infatti il progetto, che è partito circa un anno fa, si è realizzato in diverse fasi, e la prima è stata proprio quella di creare momenti di formazione e di condivisione per gli educatori. E una fase importante, che è quella che stiamo portando avanti in queste settimane, è quella del lavoro proprio direttamente nel territorio, quindi affiancando gli educatori nella loro esperienza quotidiana di gestione degli oratori e del lavoro con i ragazzi e le ragazze. Il progetto Oratori in Rete sottolinea ancora una volta l'importanza dell'oratorio come luogo di educazione. Per me è fondamentale, cioè è fondamentale che la Chiesa esprime la propria coscienza educativa cercando di dare vita a quella che nella lettera pastorale chiamo degli ambiti vitali, cioè degli ambiti dove si possono vivere delle relazioni primarie, fraterne, che sono veicolo di valori, dove si fa, in altre parole, anche esperienza di cristianesimo. E l'oratorio per sua natura è attento proprio ad una formazione globale del giovane e del ragazzo attraverso anche l'utilizzo di quei linguaggi che sono più consoni, diciamo, alla sensibilità giovanile. Penso alla musica, penso al teatro, penso a tante altre attività che possono essere espresse proprio attraverso dei luoghi idonei. Quindi la nostra diocesi è molto estesa, quindi anche con realtà diversificate, quindi non ci può essere una tipologia di oratorio uguale dappertutto. Ma come luogo di... Oratorio, dicevo, come luogo di aggregazione, come ambiente vitale, come possibilità anche per i giovani di ritrovarsi, di attendere alla loro formazione attraverso modalità diverse, e credo che sia una preoccupazione che dobbiamo tenere sempre viva. Questa è una prima sottolineatura. Una seconda sottolineatura, come dicevi il titolo di questo nostro ritrovarci oggi, è l'importante anche mettere in rete gli oratori, mettere in rete le competenze, le esperienze e i problemi che sorgono proprio per un servizio sempre più adeguato. Un manuale edito da INAIL regionale ed EBERER, ente bilaterale agricolo, è promosso a Modena da CIMLA, Cassa Integrativa Indennità Lavoratori Agricoli, per prevenire gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Una buona prassi per le oltre 2.100 aziende che in provincia di Modena assumono mano d'opera nel settore agricolo. Si chiama Lavorare in Sicurezza, schede sintetiche dei principali rischi nell'attività agricola ed è composto da oltre 200 pagine rivolte ai 6.000 lavoratori agricoli della provincia. Oltre al volume sono stati preparati i DVD con 5 video in tre lingue, italiano, inglese e francese e manifesti in formato 70x50 da esporre nelle aziende agricole stesse e contenenti le norme di sicurezza da seguire per svolgere i lavori più comuni. Un progetto per la prevenzione che è portato avanti a livello regionale soprattutto in questo caso dal punto di vista dell'informazione, dalla corretta informazione al lavoratore che lavora in agricoltura e che è stato fatto in collaborazione fra Ineil e Ebarer, l'ente bilaterale regionale agricolo e a cui la Cimla, la Cassa Provinciale, ha aderito facendo, acquistando appunto 6.000 copie da distribuire a tutti i lavoratori agricoli della provincia di Modena e che stiamo facendo oltre alla divulgazione di manifesti che riportano i più importanti rischi che i lavoratori possono incorrere nel lavoro agricolo e che invitiamo le aziende ad esporre nei punti di raccolta dei lavoratori e dei momenti dove ci sono le macchine o la stalla o altri luoghi di lavoro. I dati sugli infortuni nel 2008 o nel 2009? I dati che la Cassa Integrazione di Modena ha indennizzato diciamo che abbiamo sono in leggero calo di anno in anno nel 2008 sono stati 139 i casi indennizzati su 720.000 giornate lavorate il che vuol dire un evento un infortunio ogni 2.000 giornate di lavoro in agricoltura circa e 105 nel 2009 la durata media degli infortuni purtroppo noi gli infortuni vorremmo che non ce ne fossero mai ma sono purtroppo una qualche cosa che capita l'incidente succede purtroppo sempre sono su una media dei 28 giorni di durata media ecco ovviamente abbiamo l'infortunio dei 2-3 giorni come anche l'infortunio che può durare qualche mese ecco purtroppo nostro tempo è il settimanale cattolico modenese sempre più attento alla vita delle parrocchie e delle città della diocesi ti puoi abbonare tramite conto corrente bancario e postale oppure direttamente in diocesi in via sante eufemia o presso la galleria incontro deoniana di corso canal chiaro a modena per i nuovi abbonati il costo è di 45 euro da oggi fino a dicembre 2011 lo stesso prezzo per chi rinnova l'abbonamento per gli abbonati sostenitori il costo è di 80 euro per informazioni telefono allo 059 21 33 867 oppure consulta il sito internet www.nostrotempo.it Apriamo lo spazio degli appuntamenti con l'incontro di domenica 29 maggio alle ore 18 al centro famiglia di Nazareth sulla misura del cuore del Signore martedì 31 maggio alle ore 14.30 in Sant'Agostino ci sarà la messa con gli studenti celebrata da Monsignor Antonio Lanfranco mercoledì 1 giugno alle ore 18 al centro famiglia di Nazareth Consiglio Caritas Diocesana chiudiamo lo spazio con gli appuntamenti con l'inizio della novena di Pentecoste venerdì 3 giugno ben trovati amici telespettatori al consueto appuntamento con lo sfoglio di nostro tempo il senale cattolico della nostra diocesi vediamo insieme il numero che porta la data di domenica 29 maggio prima pagina articolo centrale scegliere la vita le associazioni modenesi impegnate per la difesa della vita hanno incontrato la commissione consigliare della provincia i tre richiama le pagine interne il primo legato al tema della solidarietà una firma di valore è tempo di dichiarazione dei redditi la possibilità di devolvere e destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF ad alcune realtà diocesane per quello che va dalla catechesi non un corso ma un discorso un resoconto sull'esperienza di quest'anno del laboratorio Nicodemo per la catechesi con gli adulti poi legato alla chiesa e il mondo le ombre non oscurano la luce le parole del cardinale Bagnasco all'assemblea generale della CEI che si svolge in questa settimana il punto porta al titolo celebrare i sacramenti per vivere una fede matura il riferimento è a questo tempo che va tra la Pasqua e la Pentecoste che vede una ricchezza di celebrazione dei sacramenti e le nostre comunità parrocchiali andiamo a pagina 2 e troviamo lavoro e festa tre giorni di confronto saranno i tre giorni della pastorale diocesana dal 6 all'8 giugno al centro famiglia di Nazareth di Modena troviamo il programma completo per quello che riguarda il tema dei referendum che saranno il prossimo 12 e 13 giugno nostro tempo riporta una riflessione a partire dal Magistero della Chiesa in particolare legato a quei quesiti sull'acqua per Sorella Acqua è il titolo dell'articolo punti di vista è riportato un intervento di Don Paolo Boschini alcune idee e criteri per rilanciare il dibattito in ordine anche alle ultime discussioni recenti sono state a proposito della Mostra Scampia Volti che interrogano che è stata ospitata nella Chiesa della Beata Vergine addolorata il titolo è l'opinione pubblica dei cattolici è un diritto e una virtù proseguiamo nello sfoglio vediamo una pagina dedicata a due associazioni la prima è il Centro Italiano Femminile di Modena che propone iniziativa rivolta all'intera comunità modenese il titolo dell'articolo è per le donne ma non solo e poi la FUCI la Federazione Universitaria Cattolica Italiana la creazione e l'amore vengono riportati i percorsi messi in campo dalla FUCI modenese il prossimo appuntamento sarà il 9 di giugno per quello che riguarda le pagine dedicate alle varie zone della nostra diocesi andiamo dalla Pede Montana e troviamo che sono riuniti i consigli pastorali di San Cesario e Sant'Anna che hanno incontrato l'arcivesco Monsignor Lanfranchi quale futuro per l'unità pastorale per quello che riguarda poi la rubrica dedicata alla riscoperta delle chiese dell'opera d'arte della nostra diocesi chiese sorprese San Giorgio il 600 modenese il santuario mariano cittadino della Beata Vergine Ausiliatrice del popolo modenese con una scheda sul santo il cavaliere e il drago e un focus proprio sulla Beata Vergine Ausiliatrice ecco abbiamo visto insieme alcuni articoli di cui ho composto questo numero di nostro tempo vi invitiamo come sempre ad acquistarlo e a leggerlo integralmente vi ringraziamo anche di averci seguito in questa settimana di Intorno alla Ghirlandina appuntamento alla prossima giovedì sera ore 21 su ETV Antenna 1 replica alla domenica alle 13.15 su ETV News grazie e un buon posizionamento di serata a tutti voi a tutti i nostri spettatori 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 Grazie.